Anche la Puglia ha celebrato la giornata mondiale dell'alimentazione 2016 e lo ha fatto con un concerto per la terra tenutosi sabato 15 ottobre presso il teatro Petruzzelli di Bari. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Ambiente Puglia dal CEAM di Bari, cuore pulsante in quel Mediterraneo che rappresenta, come sottolineato dal segretario generale del CEAM Cosimo, la Cirignola, un ponte verso diversi mondi. Il mondo è cambiato o sta cambiando secondo i più ottimisti, dobbiamo ripensare questo mondo perché il clima cambia, perché noi abbiamo inquinato, se continuiamo così nel 2050 avremo bisogno con i ritmi di consumo attuale di quattro pianeti e mezzo, non possiamo permetterceli, la popolazione aumenta quindi è un problema globale e dobbiamo agire localmente. La sintesi è che dobbiamo mettere in moto l'intelletto, la conoscenza che ha sempre salvato l'umanità ed è per questo che l'agricoltura assume un ruolo importante perché se il clima è cambiato ha la parola d'ordine e cambiamo il modo di fare agricoltura. Diritto al cibo, all'alimentazione sana e sostenibile e impegno alla cooperazione internazionale nelle politiche di sviluppo. Sono i temi della manifestazione che si inserisce nel programma di eventi voluti dal Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale alla base del futuro del mondo come evidenziato dal ministro plenipotenziario Cristiano Maggi Pinto. Sostenibile significa che deve integrare varie dimensioni, non soltanto la dimensione economica agricola ma anche la dimensione ambientale come lei ha detto e la dimensione sociale che è anche la dimensione della pace, della sicurezza e della stabilità perché non vi può essere un vero e proprio sviluppo economico, non vi può essere protezione dell'ambiente senza anche esservi stabilità da un punto di vista sociale, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. All'iniziativa hanno preso parte tra gli altri Gianni Bonini, vicepresidente del CEAM, nutrizionisti ed esperti in programmi di sviluppo rurale che con le loro testimonianze hanno fornito ai giovani delle ultime classi di numerose scuole superiori di Bari e provincia spunti utili per intraprendere carriere professionali legati alla cooperazione internazionale e allo sviluppo. Dai Pink Floyd a Modugno la terra è stata omaggiata con l'esibizione musicale del coro, del faro e della jazz studio orchestra diretti dal maestro Paolo Lepore.